Ciao a tutti e benvenuti. Oggi è terza puntata dei consigli di Laura, però prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella notifiche per non perdere i prossimi video. Però, ora, sigla! Con del semplice sapone di marsilpia e acqua andremo a fare questo detersivo. L'ho provato, l'ho testato, funziona e lava. Pezzo di sapone 4 centesimi. Con 4 centesimi ho fatto 3 litri di detersivo. Il detersivo deve avere questa consistenza, deve essere gelacinoso. Per la dose dovete un attimo regolarvi voi. Io di solito mezzo all'aspetto, come l'altro. Quindi, la consistenza è questa. Io ho guardato varie ricette anche su internet per trovare delle cose un po' fattibili. Diciamo che questa è una di quelle. E come consistenza, vedete, deve rimanere appunto così. Però, ho visto che nelle ricette che di solito girano, c'è 2 litri e mezzo di acqua e 250 grammi di sapone di marsilpia. Ma nel mio caso, i 250 grammi, ho visto che diventa troppo solito il detersivo, non si può usare. Quindi, io ne ho messo 3 litri. No, 3 litri e mezzo. Ne ho messo 3 litri e mezzo. 3 litri e mezzo con 250 grammi. E' diventato di questa consistenza. Wow! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il secondo consiglio, visto che abbiamo fatto il detersivo, ho fatto anche l'amorbidente. L'amorbidente, seguite le dosi che ci sono nelle indicazioni. Però vi volevo ricordare che io personalmente non ho messo le gocce di profumo perché non ce l'avevo in casa. Però le gocce di profumo, l'essenza, mettetela. Io ho messo il profumo un po' così, il profumo che metto di solito io, ho messo qualche goccia, diventa profumato. Però se c'è l'olio di essenza ancora meglio. Quindi seguite le dosi. Una cosa che vi volevo ricordare, a parte che il bicarbonato è un ottimo disinfettante e anche l'aceto disinfetta e ha un olvidisce molto. Quando voi lo mettete nella bottiglia, il bicarbonato, non so se si vede, si deposita nel fondo perché è più pesante. Quindi prima di andarlo a inserire nella lavatrice, nella vaschetta del risciacquo, lo scuotete. Lo scuotete ed ecco fatto. Pronto. Ricordatevi le gocce, le essenze, il profumo di essenza. Quindi o che sia il T3, o che sia la menta, o la lavanda, quello che volete, quello che vi piace. Ricordatevi le gocce. 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 grazie di essere stati con me con questo concluso se avete dei suggerimenti se avete dei consigli anche da darmi se volete voi dei consigli iscrivetevi nell'info box sarò lieta di rispondervi ora vi saluto vi mando un grosso bacio e abbiate cura di voi stessi ciao